Allora, vediamo cosa ho trovato questa volta al mercatino dell'usato. Questo libro, fantastico, che ha una certa età, ha le pagine un po' ingiallite, però, voglio dire, mi pare sia dell'87. Sì, sì, sì. E chiaramente, dire, 9.500. E ai suoi anni, insomma, mi ispirava, l'ho preso. Ma, per gli amanti del genere, ora, guardate, cioè, questo non so di che anno è. Ha un po' di collante andato. Non lo so, sarà anche questo degli anni 80, comunque, se non prima. No, prima. Non riesco a trovare una data. Vabbè, comunque, sono contenta di averlo trovato. Ehi, questo, praticamente, non potevo lasciarlo lì, perché sapete bene che io adoro gli gnomi, fatine, gnomi, eccetera. E, guardate che meraviglia, c'è solo il retro. E poi, oppla. I disegni mi ispirano, visto che vendo anche parecchi disegni, penso che farò dei disegni su tessuto di questi, cioè, di questi, ispirati comunque a questi personaggi, perché mi piacciono veramente tanto. Non, ma fantastici, adesso sto facendo un po' di casino. Ma, guarda che belli. C'è da sbizzarrirsi. Ecco. E questi sono gli acquisti dell'ultimo mercatino che sono andata a vedere. Grazie. Grazie.